E' stata la suggestiva cornice del castello di Monte Sant'Angelo a ospitare per il terzo anno consecutivo Bollicine di Puglia, l'evento dedicato ai vini spumante pugliesi organizzato dall'associazione italiana Sommelier Puglia. Grande la partecipazione di enopassionati alla serata patrocinata dalla regione Puglia che hanno potuto degustare oltre 70 etichette proposte in abbinamento a un ricco paniere di prodotti della gastronomia regionale. Questa è una bellissima iniziativa dell'associazione italiana di Sommelier perché in una cornice meravigliosa quale è questa del castello di Monte Sant'Angelo, città patrimonio dell'umanità UNESCO, dei due siti UNESCO sia della Basilica di San Miguel Arcangelo che della Foresta Umbra, c'è questo evento del festival regionale delle Bollicine il festival regionale degli spumanti pugliesi e quindi siamo in grado di coniugare i prodotti, la qualità, l'eccellenza dei nostri spumanti con i prodotti enogastronomici e con la bellezza del nostro territorio. È diventato un evento importante che ha la sua terza edizione e su questo la regione Puglia continuerà, credo, a investire. Un evento unico nel suo genere curato dalla delegazione AIS Foggia che ha permesso anche di analizzare la realtà delle bollicine pugliesi nel convegno di apertura della manifestazione. C'è un trend in crescita per quanto riguarda la produzione di bollicine in Puglia. Sul metodo classico siamo circa un quarto della produzione complessiva di tutta la Puglia ma la cosa che sottolineavo anche prima, ciò che conta è lavorare sulla qualità di un prodotto che sia metodo classico che sia metodo Martinotti, lavorare bene sulla qualità e non fare uno spumante perché il mercato lo richiede è fondamentale per arrivare lontano.